quindi giusto qualche minuto è per permettere anche a Giada di raggiungere il podio e poi andremo in scena con l'ultima premiazione che ci resta dei cento rana quindi per quanto riguarda le gare in acqua questa seconda serie avremo la prima serie femminile e poi a seguire le premiazioni di stafetta e le premiazioni dei 400 stile libero intanto in zona podio li vediamo ai ragazzi del centro nuoto rosa anche quest'anno ci fanno divertire abbiamo magari avuto meno tempo rispetto alle passate stagioni con tante presenze gara questa edizione del meeting di Halloween però insomma loro ci sono sempre ricordiamo tutti l'anno scorso quei 50 stile libero video che è stato pubblicato un po' su tutte le pagine Instagram del nuoto quindi chissà magari domani cosa ci regaleranno i ragazzi del centro nuoto rosa sempre meravigliosi e spettacolari nell'organizzazione di questa manifestazione intanto dovremo esserci vedo pronte la giù le ragazze per andare a completare l'ultima premiazione del blocco sempre con Gian Domenico Bizzotto a consegnare le medaglie 100 rana ragazze terza classificata medaglia di bronzo Gimnasium Pordenone Chiara Lucchese seconda e argento per il team Veneto Irene Burato e prima prima medaglia d'oro e vittoria Gimnasium Pordenone il suo tempo 1.13.31 Giada Alzetta Gimnasium Pordenone Chiara e allora presentiamo l'ultima gara di questa sera la prima serie dei quattro stile femminili corsia 1 Eleonora Marin team Veneto 2 Giulia Fraccaro team Veneto alla 3 Gaia Capitanio pallanuoto Trieste alla 4 ritroviamo Stefania Pirozzi Cicinapoli alla 5 Eleonora Brotto team Veneto in corsia numero 6 per l'Aleosport Lucia Scartozzoni alla 7 per l'Aleosport Nicole Santuliana e in corsia 8 per l'Idros e la campionessa italiana assoluta della 25 chilometri ha preso parte ai campionati del mondo di Gesù Barbara Pozzobon Idros quindi in attesa della prima serie appunto appena presentata anche in questo caso è non mancano le protagoniste le specialiste del mezzo fondo giovanile intanto Giorgia Gosetto sta nuotando in corsia 6 in questa serie numero 2 è stata la seconda ai Criteria negli 800 stile libero a proposito di medagliate giovanili quindi netto il suo vantaggio Giorgia Gosetto Rarinantes Venezia 4 20 e 48 molto giovane classe 2005 quindi primo anno della categoria junior ci siamo